buon pomeriggio buon pomeriggio a voi tutti e benvenuti al sorriso diverso in docufilm ma noi abbiamo una pretesa particolare quella di donare il sorriso un sorriso diverso che è quello che ci mostra le soluzioni qualcosa cambierà di bruno galvani abbattiamo i luoghi comuni di tiziano rea senza peccato di marco toscani noi abbiamo una piccola pausa ci vediamo qui alla nostra testa per un aperitivo coraggio e la speranza del futuro nel benessere all'interno di una cornice di una manifestazione molto bella che sta fatta qui al palco santa maria della pietà e questo è il tema che affrontiamo con i relatori che sono alla mia sinistra Antonio Petrucelli Marco Forti piccoli angeli guerrieri del mondo Maurizio Rigatti la forza della fragilità Marco Giulia di cartone 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 Marco Giulia di cartone